Dovunque uno guardi ci sono barche, barche, barche e ancora barche, bateau, 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 come dicono qua, sembra che ognuno faccia gara a chi c'è la più grande, laggiù non vedete bene ma c'è roba da 40-50 metri, chi lo sa, vabbè a me più o meno basterebbe anche questo affarino qua, con una torre da 250 metri.